Musica Babbo Natale ha avuto una brillante idea venire qui a trovare tutti una volta all'anno ma prima che vi venga a trovare lui ci abbiamo pensato noi a farvi andare nel crimine ad inizio e ora prendete bene la mamma Sabato 19 dicembre agli ore 20.30 non mancate l'ormai tradizionale cena di Natale griffata con un bar il menù di quest'anno è ricco di prelibatezze ci saranno salumi misti e formaggio lasagna al forno carne mista e patate macedonia e dolci tradizionali natalizi e oltre a questo molto altro ci sarà tempo di divertirsi cantando al karaoke tentare la fortuna con la supertombola bianco-rossa e ascoltare musica dal vivo non perdere l'occasione di passare un Natale in famiglia vieni a far parte della nostra ricorda sabato 19 ore 20 presso il Teatro dell'Oratorio cena di Natale bianco-rossa il Natale tra i nostri prodotti death probabilmente arrotando la profondità